Buon pomeriggio e ben trovati in questa prima edizione del TG6. In apertura la cronaca, momenti di attesa a Lanciano in corte d'assise per la sentenza del processo con rito abbreviato a carico di Fabio Di Lello, unico imputato per l'omicidio di Italo Delisa. A minuti la sentenza, noi siamo pronti per collegarci con Alfredo Primante che vedo in collegamento audio-video proprio da Lanciano. Alfredo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. In questi secondi si sta leggendo la sentenza che riguarda il processo secondo il rito abbreviato in corte d'assise qui a Lanciano, processo per direttissima a carico di Fabio Di Lello, 33 anni, accusato di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione per aver ucciso a colpi di pistola il primo febbraio di quest'anno Italo Delisa, 21enne operaio sempre di vasto. Dicevamo, mi giro in questi secondi proprio per cercare di capire quello che sta accadendo alle mie spalle, dove vedete c'è l'aula della corte d'assise, dove i giudici sono in camera di consiglio dalle ore 10.30 di questa mattina. Dicevo, mi giro per cercare di capire che cosa sta accadendo perché proprio in questi istanti dovrebbe essere stata letta la sentenza che riguarda appunto questo omicidio che è tanto clamore. Se sei d'accordo, io riprendo la linea, proseguiamo con il Tg, ti diamo modo di ascoltare insomma dettagli eventuali del verdetto, dopodiché ci ricollegheremo, va bene? Va bene, va bene, proviamo ad avvicinarci all'aula, vediamo che cosa sta accadendo, ci risentiamo tra pochissimo. Perfetto, grazie ad Alfredo Primante, dunque continuate a seguirci perché tra poco avremo verosimilmente il verdetto, la sentenza. Sempre la cronaca si è avvalso della facoltà di non rispondere RF, 50 anni, allenatore di una squadra di baseball della provincia di Chieti che lo scorso 22 marzo è stato arrestato dalla squadra mobile della questora Tietina in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata. In carcere a Chieti stamani è comparso davanti al GIP del Tribunale Antonella Redaelli per l'interrogatorio di garanzia e come ha riferito il suo legale di fiducia, l'avvocato Luigi Antonangeli, era sconvolto e molto provato. L'avvocato ha presentato un'istanza di concessione degli arresti domiciliari sulla quale il GIP, dopo aver acquisito il parere del pubblico ministero, dovrà pronunciarsi. Le vittime, secondo quanto accertato nelle indagini, sono tre minori che hanno un'età inferiore ai 14 anni. Militavano nella squadra e uno di questi aveva fatto ricorso alle cure dell'ospedale di Chieti. L'inchiesta, partita dalla denuncia di una madre e coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti, Giuseppe Falasca, va avanti per accertare se ci siano stati anche altri episodi di violenza nei confronti di altri ragazzi. Megalò 2 non si farà. È arrivato nel tardo pomeriggio di ieri il pronunciamento del comitato Via, che ha espresso parere negativo al progetto di ampliamento del centro commerciale, sito in Chietiscalo, ad esultare commercianti ed ambientalisti, mentre la società realizzatrice annuncia il ricorso al Tar. Francesca Romana Testi. Megalò 2 riceve un secco no dal comitato Via, valutazione impatto ambientale. La decisione in programma alla cui la ieri aveva visto mettersi sul piede di guerra ambientalisti e associazioni di commercianti che da anni denunciavano il depauperamento del comparto a causa della massiccia presenza di centri commerciali nell'area metropolitana Chieti-Pescara. Dall'altra parte, a chiedere lo stop all'imponente progetto, erano stati anche gli ambientalisti che denunciavano il rischio idrogeologico dell'area in questione. Nella giornata del pronunciamento della commissione presieduta dal dirigente regionale Cristina Gerardis a mobilitarsi per una protesta sotto al palazzo del comitato, oltre 200 commercianti venuti dalle quattro province guidate da Confcommercio. Prima della decisione la commissione ha ascoltato le ragioni dei rappresentanti dei commercianti che, provincia per provincia, hanno messo in luce le difficoltà dei propri territori. Secondo Confcommercio Teramo, guidato da Gianmarco Giovannelli, il dato da tenere ben presente è il fallimento della grande distribuzione in Val Vibrata con il rischio di abbandono per le grandi strutture rimaste incompiute. Marisa Tiberio di Confcommercio Chieti ha ribadito l'impoverimento del comparto dei piccoli esercenti causato dalla presenza del centro commerciale che ha portato alla desertificazione dei clienti sia nel centro città che allo scalo. Riccardo Padovano di Confcommercio Pescara ha ricordato che il numero di centri commerciali presenti nella regione Abruzzo l'ha a testa al secondo posto in Europa senza contare il rischio esondazione dell'intera area. Infine, Confcommercio L'Aquila ha denunciato l'abbandono della regione nei confronti di un territorio che dal terremoto 2009 non è riuscito a ricostruire attività ed edifici che impongono ai residenti l'esodo verso altre strutture. In terda serata è arrivata la notizia della bocciatura del progetto che si è da un lato ha visto esultare commercianti e ambientalisti dall'altro ha visto pronunciarsi il progettista della società realizzatrice del progetto di ampliamento Megalod 2 che ha annunciato la battaglia con un ricorso al TAR per illegittimità e la richiesta di risarcimento danni. L'onorevole Antonio Castricone ha illustrato oggi a Pescara le novità del decreto emergenze in favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma prevista una norma ad hoc che prevede la sospensione di 36 mesi del decreto Lorenzin e consente dunque così la salvaguardia di alcuni presidi ospedalieri. Il servizio è di Paolo Renzetti. Onorevole Castricone, oggi le popolazioni dell'Alta Val Pescara possono esultare perché nel decreto emergenza approvato dal Parlamento si parla anche dell'ospedale di Popoli di questa sospensione di 36 mesi di qualsiasi attività, se così la vogliamo chiamare, di declassamento per il presidio ospedaliero. Io ho scritto ed è stato approvato un emendamento che prevede la sospensione per tre anni del decreto Lorenzin che riguarda appunto la riorganizzazione di standard di qualità della sanità. Questo ci permette in particolare all'ospedale di Popoli e quindi come diceva lei, da un territorio ampio come quello della Val Pescara di poter avere per i prossimi tre anni, ma io dico anche successivamente una riorganizzazione sanitaria meno dannosa e meno onerosa ma che prevede appunto il mantenimento dell'ospedale di Popoli con gli attuali servizi e con gli attuali reparti. Mi sembra un risultato appunto come dicevo straordinario un risultato che però in questi 36 mesi ci deve vedere attivi all'opera affinché i servizi che ci sono adesso vengano potenziati e che comunque con l'ospedale continui ad essere così come l'ho sempre stato un punto di riferimento. Quando si ottiene un risultato così importante non ci si riesce mai da soli ma c'è bisogno della collaborazione, del sostegno anche degli altri. Siccome questo era un emendamento che aveva un senso importante devo dire che tante persone, non solo i miei colleghi abruzzesi penso a Tancredi, alla Chiavaroli, alla mia collega Maria Amato hanno sostenuto e firmato questo emendamento. Anche durante la votazione in commissione il collega Colletti del Movimento 5 Stelle e il collega Melilla Di Sella hanno ritenuto di dover sottoscrivere e di votare a favore di questo emendamento che lo vorrei ricordare perché è un fatto sempre importante è stato approvato all'unanimità. Sindaco, Popoli può esultare, l'ospedale resta così com'è. Qualche settimana fa c'era stata una manifestazione nei pressi dell'ospedale di Pescara alla fine le vostre rimostranze, se così le vogliamo chiamare, hanno avuto successo, sono state accolte. Questo è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Io ritengo fondamentale il lavoro fatto dall'On. Castrigone perché ci dà la possibilità di poter lavorare con più tranquillità in questi 36 mesi e soprattutto vorrei rimarcare che finalmente, a parte gli slogan, a parte tutto quello che viene scritto sui social eccetera c'è stato un lavoro serio, un lavoro concreto, un lavoro che ha determinato delle risposte reali. La provincia di Teramo annuncia all'inizio dello studio di vulnerabilità su tutte le scuole provinciali. Per queste indagini l'amministrazione investirà 700 mila euro di fondi propri e utilizzerà gli oltre 3 milioni di euro ricavati dalla vendita della caserma dei Carabinieri di Teramo per gli interventi successivi. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Da giugno tutte le scuole provinciali di Teramo avranno il loro indice di vulnerabilità sismica. La provincia, con i fondi propri, ha investito circa 700 mila euro e in questi giorni si sta procedendo alla firma delle convenzioni di incarico professionale. Complessivamente saranno coinvolti circa 50 professionisti. Investiti 700 mila euro di fondi propri, la provincia inizia a studiare tutte le scuole del territorio? Sì, sono tantissime, 27 istituti scolastici disseminati in 8 comuni più alcuni edifici strategici come la prefettura o la sede centrale dell'ente. Sarà un lavoro che ci darà una mappa completa ed esaustiva della situazione degli edifici sotto il profilo della sicurezza sismica e poi decideremo il da farsi. In quanto tempo? Allora, noi abbiamo stipulato una convenzione con l'ordine degli ingegneri che ci ha anche permesso, vi ringrazio, di abbattere i costi perché altrimenti non sarebbero stati 700 mila, ma il doppio. Dobbiamo fare delle indagini tecniche, io ho dato come termine massimo il 30 maggio proprio per la rimessione di una relazione e di una verifica dell'indice con un'indicazione su quelle che possono essere le possibili linee di intervento. E poi, Presidente? E poi valuteremo sulla base dei risultati quali edifici possiamo migliorare sismicamente e portarli a un grado di sicurezza accettabile e comunque in linea con gli indirizzi che ci sono stati dati e quali invece dovremo verificare una diversa alternativa perché magari il costo per la ristrutturazione supera quello di un nuovo insediamento. Abbiamo 4 milioni che non sono sufficienti, ce ne vorrebbero 10 volte tante però su quello poi insomma verificheremo come e dove trovarli. I primi comuni dove si inizierà a lavorare sono Teramo, Montorio e Castelli per proseguire nei prossimi giorni con l'avvio delle procedure anche relativamente agli edifici scolastici ubicati in altri comuni sede di polo scolastico come Giulianova, Rosseto ed Atri. Meccanica, energia, agroalimentare, testi, retrasporti e turismo sono le 6 filiere individuate per i nuovi politecnici professionali rivolti alla formazione degli studenti degli istituti tecnici a presentare la novità l'assessore regionale Sclocco. Studenti proiettati nel mondo del lavoro per aumentare la formazione e costruire abilità utili alla futura occupazione. Con questo obiettivo nascono i poli tecnici professionali che ampliano il percorso degli istituti tecnici superiori con 6 differenti filiere a disposizione. Gli ITS faranno parte dei poli, sono parte dei poli in realtà il polo è molto di più di un ITS è un consolidamento tra la formazione e il mondo del lavoro nasceranno 6 poli in Abruzzo ci sarà il polo del turismo, il polo dell'agroalimentare il polo della meccatronica, il polo della moda il polo del trasporto e della logistica i 6 poli di fatto metteranno ancora di più in connessione i bisogni del territorio come dire relativamente a queste tematiche e gli enti di formazione che poi dovranno mettere sotto forma di formazione i bisogni delle imprese e quindi poi anche gli istituti tecnici e gli istituti professionali creando quindi un circolo virtuoso tra il bisogno del territorio gli organismi di formazione e gli studenti i poli sono costituiti dalle imprese concernenti che si occupano per esempio del turismo tra gli organismi di formazione che dovranno far formazione sui temi interessanti sulle tematiche turistiche e poi dagli istituti professionali che hanno al loro interno un indirizzo turistico naturalmente questa filiera è sostenuta anche dall'ITS turismo in questo caso Prima di proseguire con il nostro notiziario e prima ancora di tornare a Lanciano d'Alfredo Primante vi anticipiamo il verdetto appena comunicato in Corte d'Assise per Fabio Di Lello ce la condanna a 30 anni di reclusione per l'omicidio di Italo Delisa dunque 30 anni per Fabio Di Lello ma come detto tra poco ci ricollegheremo a Lanciano con Alfredo Primante proseguiamo con il nostro notiziario questa mattina nella Corte della Biblioteca Delphico è stato presentato alla cittadinanza il progetto della nuova casa dello studente di Teramo appena finanziata dal governo con 3 milioni di euro l'intervento riguarderà la riqualificazione dell'ex rettorato di Viale Crucioli e sarà gestito dall'azienda per il diritto allo studio universitario Il governo stanzia 3 milioni di euro per la nuova casa dello studente a Teramo e la città torna a sognare in grande forse questo è il primo progetto che segna il rilancio di questa città? Il primo progetto di un quadro progettuale è ancora più ampio molto più ampio che vedrà, io auspico già nel prossimo anno l'apertura di tre cantieri formidabili la casa dello studente il recupero dell'ex manicomio la realizzazione del polo agrobio veterinario in collaborazione fra il sito zooprofilattico e università sono convinto che la portata strategica di questi progetti sia del tutto auto evidente cambierà l'assetto dell'università io sono convinto che cambierà anche l'assetto della città la nuova residenza universitaria sorgerà nell'edificio dell'ex rettorato di Viale Crucioli e il progetto prevede la riqualificazione dell'immobile storico e dell'intero quartiere le linee generali dell'intervento sono state illustrate alla cittadinanza dai vertici dell'Azu di Teramo l'azienda per il diritto allo studio che gestirà l'intero progetto con la nuova casa dello studente uno studente che arriverà a Teramo cosa avrà in più? l'obiettivo è quello di farli ritrovare in un ambiente gradevole, piacevole e accogliente tutta la struttura è una struttura molto complessa ci sono vari aspetti l'edificio principale che poi è il logo di questa manifestazione della presentazione dell'accordo di programma è l'edificio A l'edificio prospiciente della strada lo porteremo a un restauro filologico di tutto l'immobile lo riporteremo agli anni 30 in quanto tempo sarà pronto? l'intervento grazie a questo emendamento che è stato approvato di 3 milioni di euro speriamo di poter iniziare per l'inizio di fine anno il prossimo anno la gara la farà la programministrazione provinciale perché è centrale di committenza quindi potremmo partire con un primo lotto immediatamente per il prossimo 2018 sicuramente potremmo partire mentre invece per l'altro dovremmo aspettare gli altri lotti dovremmo aspettare i decreti attuativi del decreto ministeriale che potrebbero passare anche qualche anno torniamo a Pescara dove questa mattina è stato presentato il nuovo software per la gestione e il monitoraggio del patrimonio ATER il riconoscimento del fascicolo del fabbricato come strumento di monitoraggio di cognizione di un fabbricato è soprattutto finalizzato anche oltre a garantire la sicurezza del fabbricato stesso finalizzato anche a programmare gli interventi credo che sia per le divise residenziali pubbliche quindi per i beni pubblici per la residenza pubblica credo sia quanto di meglio si possa aspettare noi con questo fascicolo che abbiamo predisposto come software abbiamo informatizzato abbiamo messo a sistema tutti i dati che avevamo oltre a una campagna di rilevamento fotografico video fotografico che abbiamo fatto nell'anno 2016 e quindi l'utilità di questo fascicolo che viene messo ormai tutti insieme in un grosso server nostro e praticamente ci darà la possibilità intanto se le altre ATER lo vorranno di condividere con noi il software che abbiamo realizzato a costo zero sicuramente come risultato finale c'è da aspettarsi la redazione di un quadro esigenziale di risorse per gestire al meglio l'edilizia residenziale pubblica in Abruzzo e quindi questo credo che sia utile come supporto al decisore Si è svolta ieri la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura a Chieti il tavolo era stato sollecitato dal sindaco Umberto Di Primio dopo gli ultimi atti che hanno investito la città Soddisfazione per l'attenzione che è stata data da parte della Prefettura su un tema che noi abbiamo avvertito come importante ma sul quale non accettiamo allarmismi da parte di nessuno è chiaro che dobbiamo avere sempre alta l'attenzione sui reati sui fenomeni delittuosi che si verificano nella nostra città ma non possiamo neppure cedere all'idea che questa città sia diventata di colpo una città violenta per questo grazie all'attività già fatta e che già fanno tutte le forze dell'Ordine di Polizia ma anche a quello che in più potremo fare in una logica di sicurezza integrata io sono certo che non soltanto i trend che oggi abbiamo a disposizione di fenomeni che vanno decrescendo dal 2014 in poi saremo anche in grado di affrontare i nuovi fenomeni cioè quelli che in questi giorni hanno fatto registrare una recrudescenza e riportare il tutto a quella serenità che da sempre appartiene alla nostra comunità C'è una forte diminuzione di tutti i reati in questa città, in questa provincia pressoché tutte le fattispecie possono esserci dei livelli che in alcuni casi possono essere pari a quello dell'anno precedente ma sicuramente non c'è un trend negativo anzi un trend sostanzialmente in maniera significativa positivo e non c'è allarmismo sicuramente possono esserci dei momenti in cui più reati vanno a concentrarsi quindi per dire se ci sono dieci reati durante un anno è un conto se quei dieci reati che riguardano comunque tutto l'anno sono tutti lo stesso giorno sembra quasi che si sia mezzo a far questo in realtà dobbiamo invece preoccuparci di analizzare i trend per capire dove, come e quando possono accadere queste situazioni delittuose per poterle prevenire per poterle colpire con maggior precisione Il cantiere dei sottoservizi è potenzialmente pericoloso per la città dell'Aquila lo afferma il Movimento 5 Stelle che chiede il rispetto delle norme previste dal progetto Germana Torazio Il progetto esecutivo dei sottoservizi prevedeva che i lavori fossero svolti osservando delle norme di sicurezza ma il posizionamento di paratie laterali a protezione dello scavo e nei casi più critici la realizzazione di strutture blindate per proteggere le fondazioni è stato effettuato solamente in alcuni casi a lanciare l'allarme e il Movimento 5 Stelle dell'Aquila Noi però poniamo la questione del se questa modalità di esecuzione dei lavori sia o meno compatibile con l'obiettivo di realizzare un centro storico sicuro sicuro per la vita civile per i negozi, per le case un centro storico che sia attrattivo per la gente Che cosa farete ora? Noi intanto denunciamo questa situazione e poniamo delle domande alle pubbliche autorità perché l'altra cosa che lascia oggettivamente perplessi è che di questa vicenda lo sanno tutti lo sanno tutti in città in generale lo sanno tutti i progettisti ma lo sanno soprattutto i vertici della classe dirigente della nostra città lo sa il sindaco lo sa il vicepresidente della regione l'onorevole Lolli che come è stato pubblicato dal messaggero è proprietario di una delle case che si sono danneggiate in concomitanza con i lavori dei sottoservizi e ci chiediamo per quale motivo di fronte a questa situazione il comune non abbia fatto nulla il comune non abbia neppure chiesto chiarimenti alla SCARL e alla GSA sulle modalità con cui si svolgerono questi lavori si tratta di una situazione di assoluta mancanza di trasparenza che per noi è intollerabile e allora torniamo a collegarci con Lanciano per la sentenza dell'omicidio di Italo Delisa torniamo da Alfredo Primante Alfredo Sì Andrea avrei capito sono stati istanti coincitati quelli attorno alle 14 quando è stato letto il dispositivo della sentenza che come hai ricordato tu durante il corso del telegiornale come hai annunciato è stata una sentenza di condanna a 30 anni di reclusione naturalmente questo è il primo grado ricordo processo per direttissima in corte d'assise qui a Lanciano secondo il rito abbreviato dunque è stato riconosciuto sia lo sconto previsto per quanto riguarda il rito abbreviato ma sono state riconosciute anche le attenuanti generiche un po' seguendo il pregresso di tutta questa scoria ve lo ricordo secondo l'accusa Fabio Di Lello avrebbe ucciso Italo Delisa come vendetta per la morte della morte è avvenuta il primo luglio del 2016 in un incidente stradale che fu causato proprio dal mancato rispetto di un segnale di precedenza da parte di Italo Delisa un omicidio stradale per cui la procura di Vasto stava procedendo ma poi è arrivato il delitto il primo di febbraio e tutto si è fermato il processo ovviamente non ci sarà più per ovvie ragioni vi dicevo che sono state riconosciute le attenuanti generiche ma è stata anche riconosciuta la premeditazione in qualche maniera possiamo dire che ha retto l'impianto accusatorio della procura di Vasto del procuratore capo Giampiero Di Florio e del sostituto De Lucia non c'è stata la condanna all'ergastolo così come aveva chiesto la procura ma è arrivata la condanna a 30 anni di reclusione noi proviamo adesso a fare una cosa in diretta così live con il nostro tecnico Gaetano Tereo proponiamo vi chiediamo di riprendervi la linea per qualche istante in maniera tale da potervi proporre l'intervista che abbiamo realizzato davvero pochi minuti fa a Pompeo del Re che è l'avvocato di parte civile dunque che difende gli interessi della famiglia Delisa fra pochi istanti riusciremo a proporvi l'intervista grazie grazie ad Alfredo Primante dunque diamo modo diamo qualche istante al nostro tecnico Gaetano Tereo di approntare l'intervista proprio con l'avvocato Pompeo del Re probabilmente possiamo andare in questo momento ecco qui l'intervista all'avvocato Pompeo del Re vi ritenete soddisfatti di questa sentenza? mi permetta diciamo credo che la domanda sia mal posta nel senso che io non esprimo né soddisfazione né insoddisfazione perché le sentenze non si commentano la valenza significativa di questa sentenza è che c'è stato diciamo l'accoglimento integrale dell'impostazione dell'ufficio del Pubblico Ministero delle aggravanti contestate è stata ritenuta la provocazione perdona la premeditazione e questa è la valenza significativa di questa decisione in appello però dicevano gli avvocati difensori ci saranno più carte dal loro punto di vista essendo cadute le aggravanti no le aggravanti sono state ritenute perché se non fossero state ritenute il tipo di sanzione che è stata erogata cioè la reclusione pari a 30 anni non si sarebbe potuta erogare quindi le aggravanti sono state ritenute integralmente non avendo ascoltato ciò che hanno detto i colleghi non posso francamente esprimere l'evoluminio perché non l'ho sentito grazie allora abbiamo ascoltato le parole dell'avvocato Pompeo del Re avvocato di parte civile non so se stiamo ancora attendendo un altro contributo ma probabilmente tra poco ci ricollegheremo con Alfredo Primante eccolo qui Alfredo Primante Alfredo abbiamo dunque ascoltato le parole dell'avvocato del Re sì in qualche maniera gli è stato chiesto se fosse stata fatta giustizia e lui ovviamente ha risposto che la famiglia si è sempre messa nelle mani della giustizia e dunque della procura di vasto e del tribunale di Lanciano in questo caso volevo solo aggiungere che gli avvocati della difesa di Fabio Di Lello gli avvocati Cerella hanno già detto che proporanno appello rispetto a questa sentenza anche perché loro avevano puntato molto sulla possibile eliminazione dell'aggravante della premeditazione tant'è vero che nell'udienza di questa mattina all'inizio hanno subito presentato una memoria difensiva di 50 pagine che è stata depositata alla Corte e che agli atti di questo processo in cui si puntava proprio a smontare l'aggravante della premeditazione sulla quale invece la procura di vasto aveva molto battuto vi ricordo che Fabio Di Lello portava con sé quel giorno una pistola all'interno della sua autovettura pistola detenuta in maniera legale con un porto d'armi che però era un porto d'armi sportivo dunque per sparare soltanto nel poligono dunque in base a questa diciamo eventualità ma anche in base alle riprese delle telecamere di sorveglianza che hanno mostrato che non c'è stato diverbio tra i due poco prima dell'omicidio la procura di vasto ha puntato sull'aggravante della premeditazione che è stata così riconosciuta dalla corte d'assise di Lanciano vi ricordo sei giudici popolari e due togati per emettere la sentenza odierna a Camera di Consiglio che dalle 10.30 si è sciolta attorno alle 14 che dire ancora che gli avvocati di Lello hanno anche dichiarato che si dicono convinti di riuscire in appello a dimostrare che non c'è stata premeditazione loro sostengono che la pistola acquistata poche settimane prima dell'omicidio di Lello l'avrebbe dovuto usare contro di sé per togliersi la vita poiché non sopportava più il dolore di aver perso la moglie per il momento da Lanciano è tutto restituisco la linea allo studio grazie grazie ad Alfredo Primante proseguiamo con il nostro notiziario sistemi di finanza tradizionale e innovativi a confronto ieri pomeriggio in un convegno che si è svolto nella sala del Consiglio Comunale a Montesilvano è stata anche l'opportunità per parlare del circuito Abrex analizzare l'economia del territorio e mettere a confronto gli strumenti a disposizione dell'impresa per affrontare la crisi da quelli tradizionali ad alcune forme innovative sono stati gli obiettivi del convegno che si è tenuto ieri pomeriggio nella sala consigliare del Comune di Montesilvano tra i relatori il presidente della BCC di Cappele Sultavo Michele Borgia e il direttore della BCC di Castiglione Messer Raimondo Samuele Di Giampaolo che hanno sottolineato come solo il 35% delle imprese del territorio hanno registrato aumenti di fatturato e come si è scesa la domanda di prestiti delle piccole e medie imprese si è parlato poi di sistemi di finanza innovativa come i circuiti Sardex avviato in Sardegna e Abrex in Abruzzo con la messa in rete di beni e servizi tra le aziende aderenti un sistema nuovo creato per dare un'opportunità di rilancio specie per aziende in difficoltà di liquidità Abrex nasce da un problema la difficoltà di eccesso al credito la difficoltà per le imprese di poter effettuare investimenti con Abrex scoprono l'opportunità di tornare a scommettere sulla propria capacità di produrre economia sulla propria capacità di produrre investimenti e quindi questa è stata una grande opportunità soprattutto poi poter avere con noi il fondatore di Sardex Gabriele Littera che ci ha illuminato con una strategia che sta guardando molto e oltre i confini regionali che ci permetterà a breve di poter offrire alle imprese che si iscrivono e che si stanno iscrivendo al nostro circuito di poter avere nuovi clienti anche al di fuori di confini regionali e magari trovare nuovi fornitori da poter pagare risparmiando liquidità è un periodo di grossa crisi per quanto riguarda il tessuto economico dell'Abruzzo ma un po' di tutto il contesto europeo vogliamo dare anche il nostro contributo per cercare di trovare delle soluzioni o comunque indicare delle strade percorribili a tutte quelle imprese che vogliono continuare a investire nel nostro tessuto economico e ora una notizia la concessionaria strada dei parchi comunica che per urgenti lavori di manutenzione nella galleria Colluragna dalle ore 22 del giorno 28 marzo alle ore 6 del giorno successivo sarà chiusa al traffico la tratta autostradale compresa tra lo svincolo di Teramo Ovest e lo svincolo di Valvomano limitatamente al traffico proveniente dalla SS80 Teramo Ovest diretto verso l'Aqui la Roma A25 i veicoli diretti dunque verso Roma dovranno obbligatoriamente uscire allo svincolo di Teramo Ovest e potranno utilizzare come itinerario alternativo la viabilità esterna all'autostrada per rientrare poi allo svincolo Valvomano e ora apriamo la pagina dello sport è tornato a lavorare ieri il Pescara allo stadio Petruzzi di Città Sant'Angelo oggi doppia seduta per la squadra di Zeman ancora problemi per Coda e Campagnaro alle prese con un affaticamento muscolare ieri intanto quasi 75 minuti di partita per Cerri con la nazionale Under 21 mentre Verre è rimasto in panchina Zdenek Zeman approfitta della pausa di campionato per rimettere in parte sotto torchio il Pescara e ripropone i gradoni dello stadio comunale Petruzzi di Città Sant'Angelo dove la squadra si allena ospite del vicepresidente del Delfino e presidente dell'Arena curia angolana Gabriele Bancoschi vista l'indisponibilità del poggio degli olivi per un'altra manifestazione concomitante il trofeo Nike si è chiaro che non ha nulla a che fare con le modalità di allenamento classiche del Boemo che specie in caso di preparazione estiva sarebbe molto più dura e logorante i gradoni restano una sorta di simbolo dell'allenamento targato Zeman ma sono svolti in forma più leggera e non può essere altrimenti quando mancano appena nove giornate alla fine del campionato nove giornate che sono uno stillicidio in parte moderato dal fatto di confrontarsi nelle prossime quattro giornate con tre big del calcio italiano non ci sono buone notizie sul fronte infermeria Zampano alle prese con sindrome influenzale nuovi contrattempi per i soliti Coda e Campagnaro per loro affaticamento muscolare proseguono il lavoro differenziato Stendardo Caprari e Vittorini i primi due faranno il possibile per tornare al più presto in gruppo ed essere a disposizione di Zeman per il match del 2 aprile contro il Milan partita che per Gianluca Caprari di proprietà dell'Inter avrà il sapore di un derby oggi doppia seduta per il Delfino sempre al Petruzzi con i rientri di Montari e Muric che ieri hanno usufruito di un giorno di permesso intanto sempre ieri l'attaccante Alberto Cerri è partito titolare ed è rimasto in campo fino al 28esimo del secondo tempo nell'amichevole pre-europeo che la nazionale Under 21 ha giocato e vinto in Polonia per 1 a 2 e rimasti invece in panchina Valerio Verre questa sera tocca a Memushai per Italia-Albania valida per il girone di qualificazioni mondiali sul fronte Milan continua a tenere banco la vicenda closing dalle nazionali arrivano brutte notizie per il difensore Gustavo Gomez che ha riportato una lesione muscolare alla coscia sinistra e salterà gli impegni con il Paraguay rientrando anzitempo in Italia migliorano le condizioni di suso alle prese con un problema muscolare lo spagnolo però continua a lavorare a parte e ora la Lega Pro e parliamo di Teramo allenamento nel pomeriggio per i biancorossi di Ugo Lotti in vista della sfida di domenica prossima al martelli di Mantova contro i Virgiliani il tecnico dovrebbe confermare il modulo visto contro il Gubbio mentre dal punto di vista degli uomini potrebbe operare un cambio è stato infatti provato Federico Carraro nella zona centrale dei tre a ridosso dell'unica punta al posto di Tempesti per il resto Spighi non è al meglio ma la sua presenza nell'undici titolare non sembra in discussione a centrocampo Ilari e Amadio in difesa Sales Carcalis con Caidi e Speranza cerniera centrale anche Petrella ha lavorato con i compagni ma certamente non partirà titolare è probabile che Ugo Lotti possa concedergli uno scampolo di partita sul fronte Mantovano ancora fuori la punta Matteo Guazzo che questa mattina ha saltato la seduta di allenamento e sembra fuori causa per domenica pomeriggio lavoro personalizzato per Sodinia mentre le notizie migliori riguardano i difensori Diabie e Cristini che saranno a disposizione del tecnico Graziani recuperato anche il centrocampista Raggio Garibaldi anche i Lombardi effettueranno la seduta di rifinitura prevista per domani pomeriggio a porte chiuse arbitrerà il signor Ranaldi della sezione di Tivoli è proprio tutto per questa prima edizione del TG6 le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23 grazie per averci scelto grazie per averci scelto